Rino Gattuso se ne va da signore dal Milan e rinuncia a due anni di stipendio per pagare il suo staff, quindi lascia sul tavolo 11 milioni di euro lordi per i prossimi due anni, pur di far avere i soldi dello stipendio a tutti i suoi collaboratori fino al 2021. Quindi un gesto da gran signore quello di Rino Gattuso che ha stupito anche l'amministratore delegato del Milan, quindi ha rinunciato a percepire 11 milioni di euro lordi per i prossimi due anni per far avere appunto lo stipendio circa 5 milioni di euro lordi ai suoi, ai quelli che hanno lavorato con lui. Si tratta di 10 persone, fra questi anche professionisti che guadagnano stipendi normalissimi come i match analyst, i ragazzi che si occupano delle analisi delle partite attraverso i dati statistici. Quindi Gattuso lascia sul tavolo dopo 18 mesi anche 11 milioni di euro e se ne va veramente da gran signore. Un gesto che dicevamo ha sorpreso anche l'amministratore delegato Gazzidis. Fra di loro i rapporti sono sempre stati eccellenti, come dimostrano anche le parole che l'amministratore delegato ha riservato a Rino nella notte ufficiale. Queste le sue parole. Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi del mio approdo al club. Ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012-2013. Ha lavorato senza sosta, assumendosi tutte le responsabilità, ponendo il club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo cuore, grazie Rino.